Il mondo dei robot ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, e DJI, una delle principali aziende di droni e robotica, non si è fatta sfuggire l'occasione di stupire il pubblico con l'incredibile DJI RoboMaster S1. Questo robot educativo è dotato della più recente tecnologia di intelligenza artificiale IA, che li consente di riconoscere gesti, suoni e interagire con altri robot S1. Nel seguente articolo, esploreremo tutte le caratteristiche di questo innovativo robot, dal suo potente processore alla vista in prima persona FPV ad alta definizione a bassa latenza, oltre alla sua robusta struttura con ruote 4x4 e la scorazza intelligente che lo protegge durante le avventure. Scoprirete come il DJI RoboMaster S1 sta rivoluzionando il modo in cui impariamo, giochiamo e ci divertiamo con la tecnologia IA. 1. Potenza dell'intelligenza artificiale Il cuore pulsante del DJI RoboMaster S1 è il suo potente processore basato sull'intelligenza artificiale. Questa tecnologia di IA avanzata consente al robot di imparare e adattarsi alle situazioni in tempo reale, rendendolo in grado di affrontare sfide complesse e di reagire in modo intelligente all'ambiente circostante. Grazie a questa IA sofisticata, il RoboMaster S1 è in grado di riconoscere e rispondere a una vasta gamma di comandi vocali e gesti, permettendo agli utenti di interagire con esso in modo naturale ed intuitivo. 2. Riconoscimento di gesti e suoni Una delle caratteristiche più impressionanti del DJI RoboMaster S1 è la sua capacità di riconoscere e interpretare gesti e suoni. Gli utenti possono comunicare con il robot utilizzando una serie di gesti predefiniti, consentendo di controllare i movimenti del robot in modo divertente e coinvolgente. Inoltre, il RoboMaster S1 è in grado di rilevare suoni, aprendo nuove possibilità di interazione con l'ambiente circostante. Queste funzionalità rendono il robot ideale per attività educative e ludiche, dove è possibile impegnarsi in sfide interattive con amici e familiari. 3. Interazione con altri robot S1 La vera magia del DJI RoboMaster S1 si manifesta quando più robot S1 si trovano nello stesso ambiente. Questi robot possono comunicare tra di loro e collaborare in modo intelligente per affrontare sfide congiunte. Grazie alla connessione wireless tra i robot, è possibile creare squadre di robot S1 che si sfidano in emozionanti battaglie di robot o collaborano per superare ostacoli e risolvere enigmi. Questa caratteristica favorisce lo sviluppo delle competenze di problem solving e di collaborazione, rendendo il RoboMaster S1 uno strumento educativo eccezionale. 4. Esperienza FPV ad alta definizione a bassa latenza Grazie alla sua telecamera FPV ad alta definizione e bassa latenza, il DJI RoboMaster S1 offre un'esperienza visiva coinvolgente e coinvolgente. Gli utenti possono controllare il robot in modalità FPV e vedere il mondo dalla prospettiva del RoboMaster S1 attraverso il loro dispositivo mobile. Questa funzionalità offre un senso di immersione e realismo senza precedenti, rendendo ogni attività e avventura con il robot un'esperienza mozzafiato. 5. Robusta struttura 4x4 e corazza intelligente Il DJI RoboMaster S1 è costruito per resistere alle avventure più intense. Le sue ruote 4x4 permettono al robot di affrontare terreni irregolari e superare ostacoli in modo fluido. Inoltre, la scorazza intelligente fornisce una protezione affidabile durante il gioco e gli allenamenti, consentendo al robot di continuare a funzionare anche in caso di piccoli incidenti. a